Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo un'ora insieme per parlare del momento dei biancorossi, Red usci dal pareggio esterno del Renzo Barbera contro il Palermo appunto domenica mattina in proiezione di un'altra sfida molto molto affascinante, molto difficile, interessantissima quella di sabato pomeriggio contro il Bari, parleremo di questo ma ovviamente visto che siamo nell'ultima settimana di mercato parleremo ovviamente anche di calciomercato, lo faremo con i nostri ospiti, bandito ogni discorso su Coppa Italia, derby di Milano assolutamente non ne voglio sentire niente, vedremo poi come andrà alla fine, saluto i miei compagni di viaggio Francesco Andreania, ciao ragazzi, ovviamente saluto la regia ma soprattutto saluto il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico, buonasera direttore, buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Allora cominciamo subito, ovviamente vi dico che nella prima parte torneremo anche con i dati su quella che è stata la partita di Palermo perché come abbiamo detto anche domenica nel post gara è vero che è stata una non vittoria ma tra le non vittorie la migliore certamente e poi vi faremo vedere al di là del fatto che ci fosse il Palermo dall'altra parte ma vi faremo anche vedere in che cosa il Teramo è stato diverso probabilmente nell'atteggiamento in campo rispetto alle ultime uscite. Vediamo innanzitutto la classifica perché il diavolo fa un passettino in avanti, rimane a braccetto con il Foggia, peraltro vi dico già che visto che prossima settimana il Teramo giocherà proprio con il Foggia, il turno di campionato, il nostro prossimo appuntamento con il Pro Teramo di fatto sarà un post gara del Pino Zaccheria. Ovviamente come detto lo faremo insieme alle immagini e lo faremo grazie soprattutto ai dati che ci vengono, i dati ufficiali che ci vengono dal report di Palermo Teramo di Wisecout. Poi le vedremo per farvi capire in che modo il Teramo è stato più propositivo al di là del modulo di gioco differente. Direttore parto ovviamente da lei perché immagino che la risposta di domenica mattina sia stata quella che vi aspettavate, probabilmente non dal punto di vista del risultato ma dal punto di vista dell'atteggiamento questo sicuramente sì. Sì ma non aspettavamo delle risposte, volevamo solo dare continuità la buona prestazione fatta con l'Avellino e anche in parte a Viterbo e l'approccio è stato fantastico. Abbiamo fatto una prima mezz'ora molto molto bene. Peccato perché in quella mezz'ora secondo me dovevamo provare a chiudere o a provare a realizzare anche il secondo gol. Peccato perché poi il Palermo è uscito e ha creato qualche problema. Peccato perché è una partita che ha lasciato un po' di rammarico, la sensazione che si potesse veramente vincere. Contro un avversario comunque è sempre difficile. Francesco sei rimasto soddisfatto dall'atteggiamento di domenica mattina contro il Palermo? Immagino di sì, anche perché dopo la sconfitta di Viterbo probabilmente ci voleva una prova convincente. Sì sì, più soddisfatto, molto molto soddisfatto. Mi viene da pensare come poteva essere la classifica del Teramo se solo fosse stato capace di giocare a 360 gradi. Non mi riferisco come giustamente dicevi tu solo all'assetto tattico, proprio a tutto l'insieme, evidentemente da un punto di vista mentale, da un punto di vista tattico, da un punto di vista propositivo, dalle soluzioni che dicevamo martedì scorso che il mister stava provando con la squadra. Se tutto questo si fosse verificato in due o tre partite soltanto, mica nessuno chiede la luna. Se ripenso, ripeto, da qui alla fine del campionato, chi lo sa quante altre volte tornerò a ripeterlo perché quelle non vanno giù. La mancata vittoria con la Cavesa, la sconfitta di Bisceglie e di Viterbo sono proprio, come devo dire, cerco di essere l'obiettivo al 100%, sono quattro punti. La vittoria in casa con la Cavesa e due pareggi fuori. E oggi sarebbero 33 punti. Hai detto niente, con 33 punti si farebbero discorsi completamente diversi o comunque si guarderebbe al termo con occhi diversi. Ben venga questa vittoria, questo pareggio, questa buona prova di Palermo sul piano, secondo me, dell'espressione del gioco e dell'insieme, la si può accostare molto a una vittoria. Ora c'è da provare a replicare nei prossimi impegni perché c'è quello di sabato contro il Bari e non c'è bisogno che diciamo quali sono le difficoltà. Assolutamente. Oh, Agna, vengo da te perché innanzitutto vi faccio vedere una cosa, la prendiamo come detto dal report della partita, la distanza tra i reparti perché poi sostanzialmente è vero che abbiamo visto il cambio di modulo, questo 4-3. Ma la cosa molto interessante, se vediamo l'aspetto che riguarda il Teramo, è che è stata una squadra che rispetto al Palermo che è stato in 50 metri, come vedete il Teramo è stato in 41 metri, una squadra molto corta ed effettivamente poi noi l'abbiamo vista in campo, quella sensazione di compattezza perché se sei in 40 metri, tendenzialmente, queste sono posizioni medie, non è che tutta la partita è stata in 41 metri. Però se tu sei così corto riesci a fare quel contropressing o contropressing che finalmente abbiamo rivisto. Sì esatto, che è anche quello che poi ha permesso a Belligea di segnare, insomma, quella intensità, quella voglia di aggredire l'avversario che poi ha permesso proprio a Belligea di recuperare il pallone, di dialogare con Pinsavuti e lo stesso Belligea poi andare a segnare l'1-0. Io credo che, per quello che ha detto anche Paci, un cambiamento, non so dal punto di vista degli uomini, ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento e del modulo, era necessario dopo 8 gare senza vittorie. Il 4-2-3-1 era forse un pochino diventato di troppo facile lettura per gli avversari che ormai avevano capito molto come il Teramo agiva in campo. Probabilmente anche la squadra magari aveva perso qualche stimolo, aveva bisogno di qualche stimolo differente proprio per quanto concerne il modulo, anche se poi a fare la differenza è sempre l'atteggiamento che si ha in campo, però magari questo cambiamento potrà dare nuovi stimoli, nuove motivazioni e da qui cercare di iniziare, tra virgolette, una sorta di nuovo campionato, non perché la seconda parte della stagione sia stata così disastrosa, la seconda parte del girone di andata, così distrastrosa perché comunque il Teramo ha avuto il merito di continuare più o meno sempre a muovere anche a piccoli passi la classifica, però è chiaro che qualcosa era venuto a mancare. Come diceva Francesco, il buon pareggio di Palermo deve adesso trovare continuità non solo di prestazione, ma soprattutto dei risultati perché comunque il Teramo deve tornare a vincere. Sarà difficile farlo contro il Bari, ma provarci non costa niente. Mentre vediamo ancora il grado di pericolosità, Andrea, che ci stupisce se torniamo mentalmente a sabato, però poi vedendo la partita non ci stupisce, il Teramo è stato costantemente molto più pericoloso del Palermo. Poi è vero che le occasioni vanno concretizzate, però è anche vero che la sensazione generale è stata quella di una formazione, il Teramo che è andata molto più vicina a vincerla la partita di quanto non si è stata vicina a perderla. E' così, c'è stata quasi la sensazione che la squadra sentisse molto questa partita perché effettivamente doveva ritrovarsi, perché contro l'Avellino la squadra aveva fatto una partita discreta, ma insomma non era ancora il Teramo d'inizio stagione, sicuramente non con la Viterbese, e invece col Palermo si sono riviste tracce, anzi più di tracce, direi proprio una sorta di identità, quell'identità che ha avuto la squadra fino alla gara con la Ternana che poi ha man mano smarrito. E' un peccato perché comunque sono due mesi, sono otto partite che il Teramo non riesce a vincere una gara e bisogna interrogarsi sul perché. Probabilmente tra questi perché c'è il fatto che c'è stato un rilassamento più che altro mentale e la squadra non ha più saputo fare, e ci può stare per carità, quello che di buono si vedeva nelle prime partite. Questa capacità di stare compatti che tu hai tradotto con quella schermata e con quel dato di quei 40-41 metri in cui la squadra si è saputa restringere, per fare quello devi starci bene con la testa, devi essere concentrato. Evidentemente un po' c'è stata una flessione, un po' ci sono state delle dinamiche interne, noi abbiamo fatto riferimento in passato anche al caso Piacentini, che hanno fatto perdere qualcosa alla squadra sotto questo profilo. Contro il Palermo e anche all'inizio di un ciclo di gare molto molto importante e piuttosto complesso, la squadra sembra aver riguadagnato quel tipo di identità. Ora, le partite con Bari e Foggia ci dovranno dire se intanto si riproseguirà su quel trend e poi se questo permetterà anche al Teramo di ritrovare una vittoria, che sarà difficile contro Bari e Foggia, ma con questo Teramo è assolutamente non impossibile. Assolutamente. Peraltro, se vedete, poi andiamo anche con le immagini, se torniamo sul report vi faccio vedere che poi c'è la descrizione soprattutto dello sviluppo dell'azione d'attacco nella ripresa del Teramo, perché il numero 36 che è Gerbi e il numero 17 che è di Francesco che sono i subentrati, di fatto Gerbi non va mediamente nella posizione di Pinsaudi a fare l'attaccante centrale e quello prevalentemente se la prende Ilari quando va in inserimento, ma il Teramo aveva capito che dalla parte sinistra della difesa del Palermo, per intenderci dove c'era Crivello, era la parte più vulnerabile ed effettivamente da questa zona del campo poi arriveranno le occasioni nella parte finale della gara e infatti se scendiamo, come vedete, all'attacco dalle fasce e la pericolosità, il Teramo praticamente ha attaccato prevalentemente, anzi quasi totalmente sul lato destro del campo. Direttore, ti faccio vedere un paio di situazioni per far capire anche a chi ci vede a casa come è cambiato l'atteggiamento, che tipo di atteggiamento abbiamo rivisto nel Teramo. Ti faccio vedere qualche situazione in cui si vede proprio quella sensazione di pressing, di attacco subito sull'uscita del pallone del Palermo. Occhio al cronometro, un minuto e quattro secondi, rimessa in zona d'attacco per il Teramo, innanzitutto guardate quante maglie biancorosse ci sono, dopodiché il Palermo tocca per un attimo il pallone, ma guardate quante persone vanno alla primissima pressione, infatti il Teramo esce con Viero che recupera praticamente il pallone già in zona d'attacco con Santoro che può mettere al centro. Ora non fate caso, ecco, altra situazione in cui ci sono tanti giocatori attorno alla palla. Non fate caso se poi l'azione si sviluppa con un tiro pericoloso o quant'altro. Fate caso a quello che è l'atteggiamento. Vediamo un altro esempio e poi voglio sapere proprio dal direttore Sandro Federico se rivede un po' questa rivisto domenica, questa concezione. Allora, prima pressione con Bombaggi, questa è una palla sparacchiata da Mungo. Poi arrivano in due, due contro uno, cioè la palla passa ma ce ne sono altri due dietro che vanno a recuperare con Viero che, vabbè, non prende il fallo però sostanzialmente consente al Teramo di alzarsi ancora. Birligea va sul centrale e l'esterno a destra va sul quarto di sinistra. Ecco, direttore, questo è quello che... infatti poi quando viene saltata la pressione vedete che il Palermo può farsi spazio, ma era questo l'atteggiamento probabilmente che avevamo un po' perso? Ma vi spiego in maniera un po' più approfondita perché noi dopo quattro mesi che stiamo insieme lavoriamo anche sui nostri difetti, sui nostri pregi, sulle qualità anche degli avversari e non è un caso che con squadre comunque messe male in classifica, che hanno un gioco totalmente diverso dal Palermo, dal Bari e da quelle che sono su, che come vedi cercano sempre di giocare la palla. In uscita i terzini, i centrali di difesa, non buttano la palla per 50 metri e quindi quello che abbiamo capito è che con queste squadre più forti che cercano di giocare questo metodo, questo sistema di riaggredire, ci è più congeniale perché ci permette di andare subito più alti e di andare subito al recupero della palla. Con le squadre tipo Bicelli e Cavese che questa situazione qui stoppano e buttano la palla a 50 metri, purtroppo saltano l'intero reparto e noi siamo costretti ogni volta a tornare sulla seconda palla e quindi è più difficile, paradossalmente, anche se affronti un avversario molto più modesto. Questa palla che è stata data sull'esterno, questa di solito, una squadra che è giù in classifica, non la rischia, è la calcia di 50 metri, anche perché giocando su campi brutti come a Biscegli, come a Pagani, come a Viterbo, Viterbo forse era un po' meglio il campo, ma qui avevamo un campo bello, una squadra che è organizzata, che cerca di giocare, ci viene più facile anche mettere in campo le nostre caratteristiche. Assolutamente. Dipende purtroppo anche da questo e dove dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare nelle partite sporche, dove l'avversario butta questa palla è lì che noi dobbiamo veramente fare il salto di qualità e capire che purtroppo deve essere fatta una partita diversa. Anche perché vi faccio vedere adesso invece il riassunto complessivo della partita, non vi faccio vedere i 90 minuti, per farvi capire, perché molti poi vedono il gol molto bello di Birligea e vedono il triangolo, ma guardate quanta pressione deve fare il Teramo per recuperare, allora sono in 5 sul lato della palla, sul lato della palla sono in 5. Prima pressione, c'è un teckel da dietro, il Teramo non riesce a riconquistare il pallone, ci riesce adesso con Viero che va in scivolata, quindi seconda pressione e poi terza pressione di Birligea che allunga il piede destro, riesce a conquistare la palla, arriva tardi la chiusura della difesa del Palermo e a quel punto si innesca questo triangolo che porta alla rete di Birligea, molti vedono Birligea che si invola verso la porta Andrea e dicono ah bel gol, ma dietro c'è una costruzione di recupero palla non indifferente. Sì, questo a volte accade anche perché se si rivedono gli highlights molte volte non c'è modo di avere neanche il materiale per vedere quello che succede un po' più indietro, magari rivedendo la partita integralmente poi si va anche a ritroso e si vede quello che è l'antefatto del gol che in effetti in questo caso nasce dall'aggressività, da fare grande densità lì dove c'è la zona del pallone, dando pochi sbocchi quindi alla circolazione di palla del Palermo perché poi ogni portatore di palla quando si doveva liberare della sfera trovava un compagno su cui c'era un altro giocatore del Teramo e un altro pronto eventualmente a raddoppiare in caso di uscita da quel contrasto. Quindi è chiaro che quello che abbiamo riassunto in precedenza, cioè su questo atteggiamento, su questa propensione che la squadra ha ritrovato anche, come diceva il direttore, per le caratteristiche del Palermo stesso e di quelle squadre che sono abituate a giocare palle a terra, quindi vogliono sfidarti, vogliono confrontarsi, non rinunciano a farlo buttando questi palloni, con queste squadre evidentemente il Teramo ha trovato ulteriore sostegno su questa ritrovata aggressività, premiata poi da quel gran gol di Berligea. Francesco, a questo punto, visto che sabato arriva il Bari, rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, sei ottimista? Sei un po' più ottimista, tu sei sempre ottimista, un po' più ottimista. Beh, la qualità del Bari però, rispetto anche a questo Palermo è di un altro tenore. Infatti stavo per dire questo. Aggredire il Marras di questo periodo è altra cosa. Io dico che è una partita come quella con il Bari, che il Bari si chiude al secondo posto ormai, a meno di Corolli Caramolossi della Ternana, deve fare le capriole e quindi per una squadra costruita per il vertice, in una partita come questa devi cercare di vincere ma soprattutto di non perdere, perché come ricordavi tu, bene o male la classifica si muove. Tutti i discorsi ruotano in varie sfaccettature, perché poi è giustissimo quello che si stava dicendo, giustissimo quello che diceva Sambro, però contro Cavese, Bisceglie e Viterbese, qui adesso apro questa parentesi perché voglio ingigantire i meriti del termine, non piangere sul fatto che manca un attaccante, ma in certe partite se avessi l'attaccante o il giocatore con determinate caratteristiche tecniche e realizzative, cioè che magari ogni tanto un golletto in più lo fai comunque bravo nel far salire la squadra, bravo nello sfruttare dentro l'area la prima mezza palla sporca, magari quelle sono partite che avresti vinto lo stesso, perché io credo che esprimersi poi sempre a un livello tatticamente, con tutto quello che segue, tipo Palermo o tipo la prima parte del campionato, per una squadra che non è uno squadrone diventa difficile, perché uno potrebbe dire scusi è la Ternana, ma la Ternana è uno squadrone, la Ternana ha una batteria, non due U, ha una batteria di tre quartisti oltre agli attaccanti davanti e alla difesa e al centro campo, che fa paura dove tutti realizzano. A inizio stagione, quando si diceva capocannoniere Ilari, mi ricordi in una trasmissione, e io ricordai che il termo ha vinto anche un campionato senza avere un bomber, perché vinse il campionato con il... Però adesso devi prenderti le responsabilità di quello che dicesti tempo fa, hai detto... Poi hai fatto una moltiplicazione, Ilari potrebbe arrivare a 20... Vabbè io lì lo feci così per... come gioco, sì, però quella squadra che vinse il campionato con l'allenatore Rumignani e che non aveva un goleador, però era una squadra che aveva con tutto il rispetto per quelli che abbiamo, e in una realtà diversa, perché era un'altra era ed era un altro campionato rispetto a questo, però c'erano giocatori di una caratura nettamente superiore che tu come squadra riuscivi a far fronte alla mancanza dell'attaccante, ma non dico tanto, sai, di quello che quando è la fine dell'anno ti porta 9, 10, 11, 12 gol, qui siamo fermi ai 5 in Ilari e che Dio lo benedica Ilari per quello che ha fatto all'inizio, sperando che adesso ritrovi quella condizione iniziale. Per questo io dicevo, il discorso oltre quello tattico di determinate partite, la partita con il Bari adesso, tu devi provare a vincerla, sì, però possibilmente devi provare a non perderla, perché diceva bene, ha nominato Marras, ma nel Bari di oggi possiamo nominare 4, 5, 6 giocatori che da un momento all'altro risolvono la partita con una giocata e tutto questo, e ho concluso, al di là dell'impegno, della grinta, della concentrazione, dell'assetto tattico, del pressing, al di là di tutto, tante volte le partite si risolvono con una giocata. Assolutamente, visto che la settimana scorsa avevi un po' metaforicamente tirato le orecchie a Domenico Mungo, beh ti faccio vedere, invece Ania, e chiedo il tuo conforto, ha giocato una grande partita soprattutto in queste letture, letture con lo scarico dietro, ha fatto davvero un grande lavoro di sacrificio Mungo, probabilmente più quantità che qualità, ma che quantità però, eh? Scusa. Credo che sia un po' quello che Mungo ha fatto più vedere fino a questo momento, nel senso vi spiego, magari è stato più importante in fase di non possesso che in fase di possesso, si è dato, anche quando Bombaggi è mancato per il Covid, per il mal di schiena, è sempre un grande affare per dare una mano ai compagni, questo lavoro magari viene notato un po' di meno perché non è il Mungo che tira in porta, non è il Mungo che fa i cross, non è il Mungo che magari va al tiro, non è il Mungo che segna, però in determinati momenti è stato molto importante, credo che è un lavoro che ha fatto anche a Palermo, la sfida per lui credo che sia quella di riuscire a essere un po' più incisivo lì davanti, trovare più continuità ovviamente di impiego perché nelle ultime gare a parte Palermo è stato poco impiegato, però deve magari riuscire anche con questo nuovo modulo a essere un po' più pericoloso davanti, poi ovviamente dipende anche da quello che gli chiederà Paci, soprattutto se verrà confermato Mezzala, però credo che in fase di non possesso questo Mungo di questa stagione sia stato importante per i compagni e lo sarà ancora. Direttore a questo punto Mungo rimane? Mai pensato il contrario? Mai stato in discussione, soprattutto adesso? Ma assolutamente, assolutamente. Noi dipendiamo da Mungo, da Bombaggi, da Ilari, da Rigoni, da tutti quei calciatori che devono comunque fare sempre la differenza ogni partita e inevitabilmente, anche se i giovani stanno facendo qualcosa di straordinario, alcuni sono molto più avanti, alcuni hanno bisogno di un po' più di tempo, ma i grandi calciatori che abbiamo dovrebbero sempre stare al 100%, inevitabilmente quando abbiamo anche un calo di qualche giocatore e ovviamente la squadra ne risente. Al di là di tutto quello che ci siamo anche detti, perché è l'assoluta verità. A noi mancano i gol di Bombaggi, per esempio, mancano i gol di Mungo, Costa Ferrera sta dando un contributo importante quest'anno, ma anche gli altri trequartisti che ne so, K ha due gol di Francesco, ne ha fatti due. Comunque lo stesso Ilari ha fatto cinque gol, quindi dov'è che veramente dobbiamo trovare la spinta offensiva di Francesco Bombaggi? Ed è inevitabile che poi la squadra possa risentirne, soprattutto in fase offensiva. Assolutamente. Noi ci fermiamo per la pubblicità, chiaramente a rientro non ci siamo dimenticati che avendo ospite il direttore sportivo, visto che siamo in clima mercato, parleremo di mercato nella seconda parte, quindi ragazzi io tra un po' il report che vedete con tutte quelle frecce lo metto via perché poi vi do spazio, non lo facciamo vedere, è pieno di linee, una cosa che non si capisce nulla. Vi do spazio, preparatevi le domande, torniamo tra poco, tanto mercato con il direttore sportivo del Teramo, altro po'. Di nuovo insieme, seconda parte di ProTeramo, ovviamente in compagnia dei nostri ospiti, tra i quali il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico, a cui chiedo, poi lascio spazio a voi ragazzi. Ci descrive, visto che questo è un Teramo giovane, soprattutto anche nelle intenzioni future, ci descrive un po' questo Luca Lombardi che sembra essere il nuovo arrivo in casa biancorossa in prestito dal Monza. Se non erro, diritto di riscatto e contro riscatto? Sì, ragazzo di grande talento, tutto mancino, diventerà un grande play, quello sarà il suo ruolo. È un'operazione che vorremmo portare a termine, stiamo ancora discutendo con il Monza. Il presto infatti è di un anno e mezzo, proprio perché quest'anno vogliamo già iniziare un percorso con lui per arrivare il prossimo anno a dargli uno spazio ancora maggiore. Pensiamo che con lui si possa fare una bella operazione. Andrea, noi lo abbiamo visto in Maglia Recanatese più che in Maglia Monza oggettivamente. Vediamo anche un po' il profilo di questo ragazzo qui, biondo, ricciolino. Vediamo anche un po' il profilo di Ancona. Eccolo qua. Diciamo che è un centrocampista centrale sulla carta, anche se noi l'abbiamo conosciuto un po' più vicino alla porta, vero Andrea? Poi chiediamo anche al direttore un feedback di questa sensazione. Sì, prego direttore. Queste, le immagini che vedete, sono di due anni fa circa, un anno e mezzo fa, dove era comunque esile, aveva caratteristicamente diverse. Ed era tipo un 2004. Nel senso che adesso ha messo 4-5 kg di muscoli. Ha cambiato anche proprio, se lo vedete, infatti ero curioso di rivederlo da vicino, perché avevamo un po' perso le tracce ed è cambiato completamente. Giocatore molto più fisico, anche se non è molto alto, però già è diventato uomo e già è più un giocatore, un ragazzo di grande personalità. Ecco perché diventerà un grande play, perché probabilmente la sua grande personalità gli permetterà di giocare proprio davanti alla difesa. Ok, quindi il direttore qui ha completato quello che io volevo dire, perché io, l'avendolo visto dal vivo un paio di volte, mi aveva colpito per il grande talento e la grande personalità e lo ricordavo centrocampista offensivo, quasi trequartista, quasi seconda punta, per come lo avevo visto in quelle edizioni della Reganatese, penso con Alessandrini allenatore. Però era un 2002, quindi ora ha 19 anni, o forse li deve fare. 6 dicembre, il 2002. 16enne, 17enne, quando l'ho visto io e chiaramente faceva sensazione vedere questo ragazzo così giovane in una squadra così competitiva, titolare, con quella personalità. Evidentemente ora il direttore ci parla di un'evoluzione da playmaker, perché allora era un giocatore più offensivo, ma non una punta. Sicuramente doveva mettere su dei chili, perché poi con quel fisico, giocando tra i professionisti, non puoi resistere ai contrasti e se lo sta facendo magari il Teramo ha preso un giocatore di cui sentiremo molto parlare e che, ripeto, quando l'ho visto per le prime volte mi aveva effettivamente colpito. Inoltre in questo periodo si è allenato sempre in prima squadra, quindi quando ti alleni con Boateng, con giocatori che hanno fatto la Champions, hai solo da imparare, da migliorare, quindi ha avuto una crescita evidente e sembra veramente un altro giocatore rispetto dal punto di vista fisico e atletico, rispetto a quello che abbiamo visto e che ho visto io dal vivo un anno e mezzo fa. Il problema è che non ho avuto il tempo di andarlo a trattare perché il Monza arrivò e fece subito un'offerta importante all'area canatese e il ragazzo andò a gennaio su a Monza. Un anno fa? Un anno fa in pratica, sì. Come è nata la sua operazione? Ma perché è un ragazzo che seguivo da tempo, i buoni rapporti con il Monza, il Monza sta seguendo alcuni nostri giovani e quindi da questa collaborazione è nata questa idea che volevo probabilmente chiudere più a luglio, ma abbiamo anticipato anche avendo uno spazio in mezzo al campo, d'accordo con Filippo Antonelli, siamo d'accordo, dobbiamo trovare solo la formula giusta adesso, anche oggi abbiamo un po' ragionato e pensiamo che possa veramente ritagliarsi uno spazio anche da subito. Direttore, se le operazioni a gennaio riescono tutte come Diachite, speriamo di aver fatto centro. Ragazzi, vi do adesso la parola, giustamente Francesco Prima, perdonami, ti ho interrotto per le domande di mercato che ritiene opportune fare al direttore. Te, Ania e poi Andrea. Diachite? Diachite è un giocatore del Teramo. È un giocatore del Teramo. Lo sai che non me ne ero accorto? Lo sai che non me ne ero accorto che è un giocatore del Teramo? Allora, da Napoli, ex colleghi, uno anzi, un'altra del mattino di Napoli, del Corriere dello Sport, dicono che il Napoli vuole fortemente Diachite, o lo gira al Bari o non lo gira, il Napoli vuole Diachite. Non dire le bugie, per favore. Che già sono abituata alle bugie di Andrea Iaconi, se le dici pure tu mi vado a suicidare. Tu sai che sono sincero, no? Ti dico che parliamo da un mese, spesso ogni due giorni, quindi ho anche un buon rapporto con Giancarlo Romairone, comunque anche con il Napoli. La sensazione che ho è che difficilmente si faccia a gennaio, quindi secondo me è un'operazione che andrà a finire a giugno, per tanti motivi e quindi penso che sia anche giusto per la crescita del ragazzo fare ancora altri quattro mesi con noi, perché ha bisogno ancora di un piccolo step per poi fare quel piccolo salto. Un grosso step secondo me Sandro, perché è un giocatore fisicamente devastante, che però tecnicamente in certe letture deve... Se parli di Serie A, sì. Se parli, io dico un ulteriore step per andare poi il prossimo anno in B e poi eventualmente secondo me con un paio d'anni arrivare in Serie A, questo sì. ma perché non ha una scuola. Questo ragazzo è arrivato dal dilettantismo francese, è arrivato all'Agnonese e quest'anno probabilmente ha iniziato a lavorare sulla tattica, soprattutto sulla fase difensiva dove Massimo Paci veramente lo ha realizzato, martellato e lo ha costruito come difensore centrale e ha avuto l'intuito veramente di crederci e diventerà un grande centrale. Ma ovviamente si porta dietro un passato dove giocava solo con la forza fisica e la forza atletica, quindi ha bisogno ancora di tanto lavoro. Aia? Volevo chiedere al direttore lo stato della situazione Cianci, perché sappiamo che sabato potrebbe ritrovarsi di nuovo contro il Teramo come nell'ottobre scorso a Potenza, come è un po' la situazione con il Bari, con il Potenza stesso che pare che ha chiesto un indennizzo o una contropartita. E poi gli volevo chiedere se questo, che adesso pare un cambio di modulo abbastanza netto, cambierà anche gli obiettivi di mercato negli ultimi giorni di trattative, se ci sono state delle indicazioni particolari di concerto con il tecnico. operazione Cianci, praticamente c'è l'accordo tra Potenza e Bari, quindi roba di qualche minuto fa, infatti sono in continuo contatto al telefono perché stiamo noi adesso ragionando con Cianci perché dobbiamo allungare di un altro anno il suo contratto. Aveva un altro anno, un anno e mezzo con noi, allunghiamo di un altro anno, quindi dobbiamo solo noi trovare l'accordo con il calciatore e dovrebbe andare al Bari senza problemi. Il cambio di modulo non cambia i nostri obiettivi, se troviamo qualcosa di interessante al di là del modulo lo faremo e se c'è la possibilità di dare un po' più di spazio a Luca Di Matteo ci proveremo insomma anche per dare la possibilità a Luca di giocare di più. Celentano sta andando all'Acireale, ragazzo il 2001, l'asferimento si dovrebbe materializzare giovedì e quindi prestito ovviamente. Quindi ritrova Sparacello, se non erro, ad Acireale. Un ex biancorosso come Sparacello che gioca ad Acireale. Direttore, quindi ci conferma che Luca Di Matteo che era impredicato di andare via non andrà via a questo punto? No, no. Vediamo fino a lunedì che cosa può venire fuori. Se poi dovesse rimanere siamo siamo anche ben felici perché comunque Luca è l'alternativa anche ad Alberto Nettardini quindi assolutamente ci proveremo per dare più spazio a lui. Direttore, le faccio vedere, poi Anna torno da te, in relazione a chi poteva partire e forse non partirà, è l'autore del gol di domenica, Daniel Birligea, che ha detto questa, qui rivediamo alcune azioni, ma le faccio vedere proprio le dichiarazioni, le parole al termine della gara del centravanti romeno. Sono stato un po' sorpreso, ha detto di giocare, ma negli allenamenti ho sempre dato il massimo. Andiamo sotto, ho sfruttato questa possibilità che mi è stata data e vedremo d'ora in poi. Il futuro, non lo so, avevo dei piani, ma con la partita che ho fatto e con l'infortunio di mezzo vedremo come andrà. Possiamo toglierlo definitivamente, però anche Pace ha ammesso che probabilmente c'erano dei piani diversi per Birligea, cioè di andare via e poi qualcosa è cambiato. Noi ai nostri ragazzi, soprattutto ai più giovani, chiediamo sempre dei segnali, dei segnali durante gli allenamenti. Daniel, la settimana scorsa è stato devastante per tutta la settimana, probabilmente nella sua testa aveva anche delle motivazioni importanti, aveva qualcosa di diverso e in virtù anche della partita di Palermo. È stato premiato e Massimo Pace ha voluto dare un segnale a tutti, anche Birligea che è stato per quattro mesi praticamente ai margini, ha giocato dieci minuti a Pagani. Se ci si allena e si dà il massimo e si vuole essere protagonisti, bisogna farlo durante la settimana e dare dei segnali durante gli allenamenti e noi siamo qui e osserviamo tutto. La settimana scorsa anche i fisioterapisti notavano la qualità degli allenamenti di Daniel. Quindi Massimo è stato bravo a buttarlo dentro, sapevamo che avrebbe offerto una grande prestazione perché è anche un ragazzo di personalità, quindi assolutamente rimarrà con noi e volevamo questo tipo di segnale. Non c'è nessun problema, anzi probabilmente è il vero nuovo acquisto di gennaio perché ha tutte le qualità per diventare un grande calciatore perché può fare sia l'esterno che la prima punta e lui in allenamento vede la porta come poche. Aya, ti ho interrotto prima? No, volevo chiedere, siccome abbiamo raccolto un interesse della Triestina per i Lari, un interesse concreto a quanto pare, se c'è la possibilità effettivamente di una partenza di Lari prima di lunedì oppure il Teramo non vuole, ecco, sostanzialmente. No, sono sincero, come al solito, non mi è stato chiesto, assolutamente, tra l'altro non si muove da qui, ci sono arrivate altre richieste per lui, altre squadre, ma non si muove, come tutti gli altri, andiamo avanti senza problemi e speriamo di riprendere a vincere da subito perché questa squadra ha dei valori importanti, l'abbiamo sempre detto e lo ripeto, l'importante è avere tutti questi ragazzi sempre al 100%, credo sia fondamentale. Ricominciamo il giro, Francesco, altre curiosità? Beh, credo che sono state già... Io ne ho ancora tante. Ma tanto se ci dicono che, ripeto, ci rischiamo, se uno crede, crede, se noi non crede, al di là di poi il fatto che quello che è vero oggi non lo diventa più domani in sede di... Vabbè, questo è evidente, il mercato non funziona così. ...acquisti e vendite, soprattutto poi a pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio. Se non sono in arrivo altri movimenti, prendiamo atto che si va avanti così, ma d'altronde che non sarebbe arrivato, peccato intanto che Birrije si è fatto male e facciamo ovviamente gli auguri di tornare molto presto. Se non arriva un attaccante di un certo peso, diciamo questo aggettivo di due anni di peso, poi che significherà? Non lo so. Vuol dire che si va avanti così e va bene. Anche perché, oh, stiamo parlando di una squadra che mi sembra che è quinta, sesta in classifica. È vero che c'era stata quella partenza che l'ha fatto sognare, però insomma anche quando si vuole sognare a occhi aperti, poi il momento che guardi bene lo sai che il termo non è una squadra che avrebbe potuto mantenere quel ritmo là. C'è poco da fare. Direttore, questa è la schermata dei giocatori in scadenza a giugno, quanti secondo lei anche l'anno prossimo continueranno a vestire la maglia del Terraman? Piacentini di fatto lo possiamo togliere perché ha rinnovato e quindi lui no. Iotti è andato alla Feral Pisalò, Lewandowski, Tentardini, Di Matteo, Ilari, Lasi, chiaramente l'interesse soprattutto per ragazzi come Ilari, Costa Ferreira, Bombaggi, ecco, quelli che di fatto tendenzialmente sono più portati a fare la differenza. È ovvio che noi vorremmo tenere tutti. La volontà è di, su questo gruppo, costruire anche la squadra del prossimo anno con probabilmente la possibile riforma. La nostra squadra è forte, ma puntellata può diventare ancora più forte. L'obiettivo è questo. Vediamo adesso nei prossimi mesi, man mano eventualmente si ragionerà, ma vogliamo che ci sia anche un segnale chiaro, forte da parte di ognuno di loro, insomma. Quindi siamo pronti e disponibili a procedere e a lavorare insieme anche nei prossimi anni. È ipotizzabile pensare una politica di questo tipo, rimpiazzare magari un po' alla volta, non tutto insieme, un Big con un, faccio un nome perché ne abbiamo parlato prima, un Lombardi per esempio. È ipotizzabile una politica del genere? No, è ipotizzabile completare l'organico con dei giovani forti. Se poi il giovane è più bravo del giocatore esperto, ben venga. Ma bisogna anche avere dei giocatori esperti che sappiano guidare questi giovani. Quindi io dico che abbiamo un bel gruppo di lavoro e vorremmo continuare con questi. Questo è l'obiettivo della società, anche con Massimo Paci, idem, che riuscire a programmare e a costruire una squadra forte, dallo staff ai giovani, ai giocatori più esperti e poter lavorare già con un anno in più sarebbe importante. Sandro scusa, Paci e Federico quando rinnovano, quando la società riterrà opportuno rinnovare anche Federico e Paci. Riti, ridi sotto i baffi, dai, sì, va bene. Ciao! Ah, te ne vai! Te ne vai! Però, direttore, è un tema caldo, cioè allenatore e direttore sportivo poi sostanzialmente dal lato tecnico sono di fatto due cardini poi per costruire Rosa organico della prossima stagione, anche per quella politica futuribile di cui parlavamo prima, perché è evidente che qualcuno dei giocatori debba sceglierli e qualcun altro debba allenarli? Io sono abituato a lavorare a prescindere e lavoro già per il prossimo anno, perché l'idea di Luca Lombardi è per il prossimo anno, come qualche altra operazione con in mente e quindi al di là di tutto non è un contratto che cambia il mio modo di lavorare. Ovviamente siamo a disposizione e vorremmo continuare e portare avanti questo bel lavoro che è stato fatto, perché secondo me stiamo facendo le cose con criterio, con coerenza. anche quest'anno nonostante le tante difficoltà abbiamo una bella idea di calcio, dove in questa squadra abbiamo giovani interessanti, abbiamo tante richieste anche per Santoro, Iacentini, Viero, stanno venendo fuori anche altri giovani, anche Birligea fa solo capire che probabilmente un anno e mezzo fa non ci siamo sbagliati, che è un ragazzo che ha delle prospettive importanti. Così come qualche giocatore più esperto, quest'anno sta venendo fuori alla grande e l'anno scorso probabilmente ha avuto qualche difficoltà in più. L'operazione Cianci è un'operazione probabilmente per tanti strana, ma l'Atalanta ha venduto Krusevski dopo un anno di prestito al Parma a 45 milioni e vuol dire che è stata brava l'Atalanta a valorizzare al massimo Krusevski che probabilmente da loro non avrebbe avuto lo stesso percorso. Noi l'abbiamo fatto per risparmiare anche un ingaggio, ma l'obiettivo con i tre anni di contratto e con il diritto di recompra di Cianci preso a zero, come tanti di questi ragazzi che sono con noi, volevamo arrivare a questo. Dopo due anni dovevamo essere bravi anche a vendere Cianci a un valore assoluto. Quindi anche lì vuol dire che è stata fatta un'operazione intelligente. Ecco direttore, il fatto che dobbiate prolungare il contratto con Cianci, quindi mi fa pensare che non c'è l'obbligo di riscatto alla fine della stagione per il Bari. Come è strutturata questa operazione e qual è la finalità? E soprattutto c'è anche la possibilità tra le altre che Cianci l'anno prossimo torni al Teramo e sia anche un attaccante del Teramo, visto che gli prolungate il contratto, se poi il Bari non eserciterà un eventuale diritto di riscatto? Perché se c'era l'obbligo non dovevate prolungare. Andrea, il Bari sta prendendo il calciatore in presto perché è l'unica formula che può adottare. Secco. Secco, perché c'è il diritto di recompra al primo di luglio del Sassuolo. Quindi le altre società non possono fare assolutamente nulla. Noi possiamo solo, ecco perché dobbiamo allungare perché se il Sassuolo non dovesse ricomprare, esercitare la recompra, torna da noi con due anni di contratto, ma non è un problema, ma avere il secondo anno... Avete un capitale. Abbiamo non solo un capitale, ma abbiamo più forza in una possibile ulteriore cessione, oppure potrebbe anche rimanere con noi, ma avendo due anni di contratto abbiamo una forza diversa. Assolutamente. Intanto è ufficiale, lo vediamo in ritorno di Davide Vitturini. Vitturini era nell'aria, il sito ufficiale del Teramo lo ha reso noto nel pomeriggio. Che cosa si aspetta, direttore, dal ritorno di Vitturini? Che di fatto qualche stagione fa a Teramo non aveva mai giocato. Innanzitutto dalla possibilità, come ha detto Paci l'altro giorno, di tornare a ripresentare Costa Ferreira in fase offensiva. Ma dal ragazzo vi aspettate che faccia una seconda parte di stagione di un certo tipo? Perché è un ragazzo di cui si è sempre parlato bene e che in molti stanno aspettando e se esplode in maglia a Teramo ci fa ancora più piacere. Sì, perché è ancora un 97 e quindi pur avendo già un'esperienza importante, addirittura in Serie B, addirittura con qualche presenza in Serie A, dobbiamo portarlo ad una condizione fisica e mentale per rendere al massimo e probabilmente questo ragazzo non ha espresso ancora tutte le sue qualità. Perché mi dicono di un ragazzo molto molto intelligente, grande corsa, grande fisico, probabilmente non ha trovato realmente mai l'ambiente giusto per dare qualcosa di diverso, perché ha tutte le potenzialità per farlo. Quindi si è incastrato questa operazione in maniera proprio perfetta, abbiamo anche risparmiato qualcosa, ma volevamo un giocatore con queste caratteristiche. Tra l'altro ha giocato anche dieci giorni fa, quindi è anche allenato e pronto e domani mattina lo aspettiamo per l'allenamento. Assolutamente. Ragazzi, ultimo giro di domande per il direttore Francesco, Ania, Andrea. Intanto dico che probabilmente sul suo rinnovo di contratto Sandro Federico neanche quando giocava ha fatto un dribbling così secco che ci ha lasciato uno, due, tre e quattro in studio fermi sul posto dove eravamo. Tanto prima o poi dovrà rispondere, non ci sono capoli. Francesco, Ania e Andrea per l'ultimo giro e poi andiamo col prossimo turno perché siamo in chiusura. Domanda secca, vi fermate qui e non è una domanda polemica perché ci sono movimenti interessanti, hai spiegato bene quello di Cianci in proiezione futura, questo ragazzo Lombardi. Dico, siamo attaccanti... Sandro, Sandro, digli agli amati colleghi che giustamente devono scrivere tutti i giorni pure quando non c'è notizia, perché adesso poi è più difficile, perché ai miei tempi intervistavo chi volevo e quindi mi potevo... Voi gli stessero andare là, non si può vedere l'allenamento, vabbè, tutte cose che sappiamo. Io veramente tre mesi fa ho detto, piano piano in un'orecchia, l'attaccante non si prende. Sandro? Francesco, il mercato è strano, eh. Ah sì? Ando è simpatico. Questa sera ti sta driblando a tutto, Francesco. Sì, sì, sì. Ti sta proprio driblando a tutto, Francesco, questa sera. Se prendete l'attaccante per fare una figuraccia... Però vogliamo fare una scommessa? Vogliamo fare una scommessa. Secondo me qualcuno ha il gong e il calciomercato in attacco arriva. Però io giuro che non so niente. Però secondo me... Anja, tu sei d'accordo? Anche secondo me. Anche secondo me. Sì, ho questa strana sensazione. Eh sì, perché poi... Magari alle 19.50 di lunedì, giusto per... Eh sì, è giusto per mettere in croce chi deve scrivere, chiaramente. Perché poi in realtà questa è la suonata. Anche perché, direttore, l'ultima sollecitazione è Bunino, di cui vediamo le immagini. Insomma, è un ragazzo che proprio non si è ambientato. Qual è stato il suo problema? Adesso al di là del fatto che abbia segnato a Monopoli, ok, poco importa, fa l'attaccante, è chiaro che non poteva parare la palla con le mani, doveva per forza segnare. Però, che cos'è che è andato storto nell'avventura di Cristian Bunino? Allora, lui ha avuto un percorso anche nella sua carriera e spesso ha cambiato dopo sei mesi. Vuol dire che ha bisogno di continuità, ha bisogno di una squadra dove sia un titolare inamovibile. Soffre probabilmente la concorrenza. O soffre la concorrenza o non vuole mettersi in discussione e giocarsi il posto ogni domenica. Dico questo perché la vera motivazione è evidente che è questa. Abbiamo preferito buttare dentro Birligea e i nostri giovani perché almeno lavoriamo anche in prospettiva. Se avesse accettato, comunque, se si fosse messo in discussione probabilmente avremmo anche continuato con lui. Il problema è che lui aveva voglia di giocare di più e quindi ha optato per Monopoli, ma anche a Monopoli deve conquistarsi il posto. Non sarà facile perché anche il Monopoli ha dei attaccanti importanti. Purtroppo lì davanti c'è sempre da lottare e da sgomitare in ogni squadra. Volevo sapere se ha lo stesso pensiero espresso proprio a TV6 un paio di mesi fa, credo, se vede ancora come obiettivo un Teramo che sia il migliore delle altre. Cioè, dopo Ternano e Bari, magari un Teramo al terzo posto. Se può essere questo l'obiettivo stagionato. Assolutamente sì, lo confermo. Lo confermo, se continuiamo ad offrire prestazioni come sappiamo fare, io non sono neanche preoccupato per i gol. Perché abbiamo anche dei calciatori, ripeto, spero di ritrovare il miglior Bombaggi, il miglior Mungo, il miglior Ilari. Perché sono quei ragazzi, anche lo stesso Costa, che giocando probabilmente più avanti può anche darci una mano in fase realizzativa. Lo stesso Pinsauti che ha avuto in questo mercato anche tante richieste. E l'abbiamo ottenuto fortemente. Quindi abbiamo una squadra che può anche, grazie alle risorse di tutti, tirar fuori quei gol in più, senza andare per forza alla ricerca. Perché è anche complicato. Poi potrebbe anche arrivare qualcosa. Ma non possiamo dare il peso di responsabilità solo su un calciatore. Quindi se tutti ritrovano una condizione ottimale, questa squadra può giocare per il terzo posto. Assolutamente sì. Ok, io ho due domande. Mi rendo conto che sono anche un po' complesse. Però, allora, siccome ci sono tanti giocatori in scadenza, è evidente che si sta arrivando al completamento del primo ciclo di programmazione. Quello iniziato due stati fa, con l'avvento della proprietà Iachini. Quindi, con la prossima programmazione, voi state aspettando prima di proporre eventuali rinnovi? Perché, ad esempio, il Bombaggi di turno, con una programmazione rinnovata e più tesa alla razionalizzazione dei costi, non è detto che un giocatore come Bombaggi o chi per lui possa restare o sia facilmente rinnovabile. Quindi, su cosa impronterete la prossima programmazione che magari inciderà sul successivo bienio? E se ritiene, direttore, che la vicenda Piacentini abbia in parte inciso nella flessione dei risultati che ha avuto la squadra? Se abbia un po' toccato questa vicenda alle corde dei compagni di squadra. L'obiettivo è migliorare questo organico. Quindi, l'idea è di confermare più calciatori, più ragazzi del nostro organico. E quindi, lo faremo nei tempi giusti. Penso che si possa fare anche prima di maggio. Il Presidente ha dato un limite, ma non è detto che già con qualcuno di loro si inizi da subito. Stiamo già ragionando e lavorando su questa idea. Poi con qualcuno probabilmente ci sarà a discutere qualche giorno in più. Però l'idea è di, anche appena chiuso il mercato, si inizierà a ragionare. Il discorso Piacentini ovviamente dispiace sempre, perché è un ragazzo che ho preso e ho voluto personalmente, perché addirittura non era neanche un titolare nel Sassuolo, nella primavera. È arrivato da noi, era giovanissimo, ha avuto un percorso, secondo me, veramente importante. È stato sempre sottovalutato. Quest'anno sta dando qualcosa di diverso. Ormai è un giocatore formato qui dalla difesa e ovviamente la sua esclusione dispiaceva anche per le qualità del ragazzo, come presenza. Adesso è stato ricuscito tutto, però può capitare. Non credo che abbia inciso il problema Piacentini sui risultati. Credo che sia più un problema anche di un momento, ma non tanto fisiologico. Sembra quasi che in quel momento poi tutto quello che riuscivamo a fare di buono o di cattivo, e purtroppo in campo, probabilmente qualche mese fa, alla prima occasione da gol e riuscivamo subito a realizzare. In quel periodo anche quel pizzico di fortuna è venuto a mancare. Perfetto, noi siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato. Ricordandovi che Teramo-Bari si gioca sabato pomeriggio alle ore 15, ma che poi è un... Questa è la ventunesima giornata, la ventiduesima. Si gioca tra martedì e mercoledì. Il Teramo gioca martedì a Foggia e quindi noi settimana prossima praticamente avremo un pro-Teramo speciale. Tutto sul post-gara dello Zaccheria, ho terminato, ho messo tutti gli geroglifici, ho messo tutti i X su tutti gli argomenti che dovevamo trattare. Speriamo di averli trattati tutti. Grazie ragazzi Francesco, Agna e Andrea, grazie per essere stati con me. Ciao a tutti, ciao a Sandro. Grazie soprattutto al direttore sportivo del Teramo Sandro Federico, grazie direttore per essere stati in nostra compagnia. Grazie ovviamente alla Teramo Calcio, all'ufficio stampa Marco De Antonis, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. e ci ritroviamo martedì prossimo in diretta alle 21 con ProTeramo speciale campionato di fatto perché sarà il post-Foggia Teramo. Buona serata.